Quindi io vi invito, nel caso voi non l'aveste ancora fatto, di vedere qualche video su YouTube, ma giustamente uno pensa e dice come mai ci stai invitando a vedere qualche video su YouTube? E' perché i feste per il momento sono state interrotte, voi me lo sapete, me lo insegnate. Le feste di Tammurriate, dove si può vedere ballare la Tammurriata, un po' tutte quelle che seguono il ciclo delle feste mariane, sono state momentaneamente sospese a causa Covid, stavo dicendo la mala parola, causa questa pandemia che non già la facciamo più. Tutte le feste del popolo della Tammurra, del ciclo delle feste mariane, sono state, ahimè, sospese. Quindi se vi volete togliere uno sfizio, andate a vedere le Tammurriate che stanno su YouTube. Ma io non è che vi dica a Bù, andate a vedere i propri Tammurriate di Cosimo Aberti. In ogni caso io ho un canale, un canale dal titolo proprio Cosimo Aberti, Stachini e Tammurriate. Però voi siete libri di andare a vedere qualsiasi tipo di Tammurriate. Intanto io se cosa faccio? Mo ve ne suono una. Ve ne suono una che vi risulterà anche familiare. Caso Vita, Caso Vita. Aiuto, aiuto l'uomo, un'accorduta. Aiuto, aiuto l'uomo, un'accorduta. Quelli in buona casa volta, in buona casa volta. Quelli in buona casa volta. In buona casa volta, maratalla. Quelli in buona casa volta, in buona casa.